Buongiorno, oggi Gesù ci dice di porgere l'altra guancia, ci chiede quindi di interrompere il flusso di male che spesso ci travolge e di rispondere sempre con il bene anche al male che c'è nel mondo. Forse questa è davvero l'unica prospettiva per la pace. Bisogna interrompere tutto quello che ci porterebbe e ci condurrebbe ad altruire violenza per far sì che il mondo possa respirare altri respiri profondi di pace. Buona giornata.